La nostra penisola è interessata dal transito di una perturbazione tra la tarda serata di sabato e domenica. In Toscana, domenica 7 aprile, cielo nuvoloso con piogge sparse, localmente a carattere di rovescio temporale, notte e tempo tra arcipelago, costa e zone limitrofe, in trasferimento tra mattina e pomeriggio nelle zone interne, attenuazione e esaurimento dei fenomeni in serata. Venti deboli variabili nell'interno, deboli in prevalenza da ovest, nord ovest e sulla costa. Mari poco mossi sotto costa, mosse a largo, temperature minime in aumento, massime in calo. Sulla nostra provincia, cielo coperto in mattinata con possibili deboli piogge, insensibile miglioramento durante l'arco della giornata. A Lucca e nella Piana, temperatura minima 8, massima 15 gradi. A Castelnove, zone montane, minima 3, massima 16. A Via Reggio e sul litorale, minima 8, massima 16 gradi.